Ti sorprendono con i loro sguardi, dentro c'è sempre una domanda, ma hanno già la risposta. Fatta di sorrisi sinceri, tante parole, gesti che parlano di cultura, sono loro, le donne d'Italia. Ti insegnano ad avere radici, ti aprono gli occhi su un mondo bellissimo. Le donne, le guardi e ti hanno già convinto. Tutto gira intorno a loro, in quella piega, in ogni sfumatura, nei mille dettagli. È lì la loro unicità, l'infinita ricerca della perfezione, quel saper fare che arriva da tempi lontani e che in Italia disegna il futuro. E allora ti convinci che tutto sia possibile, che l'autenticità è una passione che ha preso vita e come ogni bella cosa va condivisa con il sorriso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.